Primo round ad Esposito e alla provincia di Salerno nella querella sul consorzio di Bacino Salerno 3 che vede ancora una volta contrapposti due storici antagonisti della politica valdianese, Esposito appunto e Siano. Il presidente del TAR di Salerno nel pomeriggio di ieri ha preferito non discutere la sospensiva richiesta nel ricorso dal revocato commissario liquidatore del Corisatressiano e ha chiesto al suo legale di ritirare tale istanza per definire la questione una volta per tutte nell'udienza collegiale fissata per il prossimo 14 maggio. Il fatto che il presidente abbia ritenuto di rimandare di un mese la questione e di non concedere nell'immediato la sospensiva ci fa capire che non la ritiene una questione impellente ed è sicuramente un segnale positivo, ha commentato Vittorio Esposito che per il momento dunque resta al suo posto come commissario liquidatore del Corisatressiano. Restiamo in attesa sperando in un verdetto finale positivo che ci permetta finalmente di lavorare e di fare ciò che in cinque anni non è stato fatto, ha concluso Esposito. Dal catto suo il ricorrente Siano è sereno, attendiamo fiduciosi la sentenza, ha detto nel ricorso abbiamo illustrato chiaramente e dettagliatamente tutte le illegittimità compiute da Palazzo Sant'Agostino per arrivare a rimuovermi dall'incarico. Di certo mi chiedo come mai solo per questo caso la provincia non abbia usufruito degli avvocati del suo ufficio legale per difendersi dal mio ricorso, diversamente da come ha fatto per gli altri, ha assunto un consulente esterno ha dato mandato al noto avvocato Lorenzo Lentini. Il presidente Canfora dovrà poi spiegare alla Corte dei Conti, ha concluso Siano, il perché di questa scelta anti-economica per la provincia. Ora però tutto è rimandato alla decisione ultima del Tarri il prossimo 14 maggio salvo ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. La provincia di Salerno vuole mettercela tutta per evitare che anche questa volta le sue nomine vadano in fumo sulla base di verdetti giudiziari che rimettono in sella i revocati come accaduto al Coris A4. Grazie Grazie Grazie